bella regà qua è Savix che vi parla bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale oggi ragazzi vi spiego come cambiare il colore a questo caschetto con i quattro visori faremo il caschetto verde rosa ragazzi e più ne ha più ne metta quindi quello viola e quello arancione comunque sia cosa dobbiamo fare come requisiti andare qua dal negozio di maschere comprarci i quattro visori zebrato ragazzi dovremo indossarcelo tirare giù la visiera ragazzi e a questo punto andarci a salvare l'outfit dove vi pare a questo punto una volta che ci siamo salvati l'outfit torniamo qua dai caschi e andiamo su caschi ragazzi e andiamo a cercarci il classico casco aperto da moto quindi ragazzi a seconda di che colore metteremo il casco ci cambierà il colore dei quattro visori quindi io andrò a mettere in questo caso il bianco che porterà ragazzi quello rosa a questo punto apriamo il nostro menu interazione ragazzi ci selezioniamo l'outfit che vogliamo colorare il casco e poi cosa facciamo controlliamo che nello stile casco ci sia quello che porterà il colore che noi vogliamo in questo caso come vedete c'è scritto casco aperto bianco a questo punto una volta fatto ciò ragazzi abbiamo salvato l'outfit con la visiera tirata giù che è fondamentale per far funzionare il glitch possiamo continuare ci dirigiamo vicino a un qualsiasi veicolo che sia un'automobile ragazzi comunque chiusa e diventiamo membri o del ceo dell'mc andiamo sullo stile lo mettiamo e lo togliamo ragazzi lo stile dell'organizzazione a questo punto scendiamo dal veicolo chiudiamo il menu interazione raga teniamo premuto la freccia destra per aprire il visore e sbada bam avremo colorato ragazzi il caschetto quindi lasciate un like lasciate un commento supportate xavix condividete questi video da tutte le parti e alla prossima sbada bam iscriviti al canale